... Occhio ai giornali di mercoledì 14 luglio 2021 sul canale 17 di Fano TV. C'è l'informazione locale in primo piano, in diretta come tutte le mattine dal lunedì al sabato. Ben ritrovati cari telespettatori a questo appuntamento. È sempre un piacere stare insieme ai prossimi 20-25 minuti per guardare e sfogliare i titoli delle notizie più importanti che abbiamo selezionato per voi dal Corriere Adriatico e il resto del Carlinio. Iniziamo dal Santo. Vediamo il cartello. Oggi è San Camillo dell'Ellis. Il sole è sorto alle 5.38 e tramonterà alle 20.49. Dal sito della Protezione Civile delle Marche per oggi la previsione è questa. Cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite in mattinata. Locali addensamenti nella prima parte del pomeriggio. Le temperature sono in diminuzione, in particolare nei valori massimi. Ci sono un po' di venti di brezza tesa. Per domani, giovedì 15 luglio, ancora cielo sereno, poco nuvoloso. Temperature senza variazione di rilievo. Ma è venerdì 16 che il tempo cambia. Dalla tarda mattinata avremo rovescio temporale sparsi in esaurimento nel corso del pomeriggio. Tempo instabile anche sabato e domenica. Come vedremo tra poco, insomma, ieri è stata una giornata caratterizzata da un'acquazione, anche da un forte vento che è interessato, soprattutto la zona di Pesaro. Noi questa mattina andiamo invece, come sempre, a collegarci con una spiaggia del litorale marchigiano. Questa settimana di turno, diciamo così, c'è una spiaggia di torrette di Fano dove c'è Cristiano, che è il titolare dei Bagnazzurra. Buongiorno, Cristiano. Buongiorno, Marco. Buongiorno a tutti. Allora, vedo che la spiaggia è in ordine, quindi questo ci solleva perché ieri a Pesaro ci sono stati momenti un po' difficili, ha tirato una tromba d'aria, una sorta di tromba d'aria, quindi ha rovesciato qualche torretta, eccetera, eccetera. Lì mi pare che invece la situazione sia migliore. Sì, qua ha fatto un pochettino più di casini verso il nord, qua siamo un pochettino più a sud, il vento ci ha colpito un po' di meno. C'è stato un bel mare, anche da noi ieri, è venuto su abbastanza, però ci siamo svegliati presto questa mattina per dare una ripristinata e dare il servizio subito eccellente a tutti quanti. Ecco, vedo che c'è sempre, come al solito, a quest'ora la bassa marea. Oggi il mare come sarà? Oggi il mare potrebbe alzarsi un pochino al pomeriggio, perché poi il vento potrebbe aumentare anche oggi un pochino, però il tempo sarà buono e ci sarà il sole, quindi si potrà venire al mare a differenza di ieri. Ecco, quando tu dici il mare si alzerà in un contesto come il tuo, dove ci sono le scogliere, mi pare di vedere, ce le puoi far vedere un attimo? Ci sono le scogliere lì davanti? Ecco, quindi mi pare che lì il mare mosso si scema fino a un certo punto, nel senso è sempre tutto molto tranquillo se uno rimane dalla parte, diciamo, verso costa. Sì, qui dove viene su un pochettino di più è dove ci sono i buchi degli scogli, dove ovviamente non riesce a infrangere il mare, però per quello la spiaggia è lunghissima, quindi non abbiamo grandissime problematiche quando si alza. Ecco, ma questo lo faremo domani, così intanto magari ti prepari. C'è questo, ci sono dei punti quando si fa il bagno, soprattutto tra una scogliere e l'altra, quella che tu hai definito un buco, no? Ecco, è leggenda oppure lì ci sono dei punti in cui bisogna stare attenti? Risponderemo domani per i bagnanti, soprattutto anche quelli inesperti, quelli che magari vengono dall'entroterra, dal nord, insomma che non vivono in una città di mare, e che magari il mare lo vivono soltanto una volta all'anno, una settimana all'anno per poco tempo e non lo conoscono. Un po' come quando noi del mare andiamo in montagna. Ci sono dei segreti che non conosciamo e qui dobbiamo stare attenti. Domani allora ci sentiamo e facciamo anche questo ragionamento qua, va bene? Grazie Cristiano. Molto importante. Bene, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. I giornali. Carlino di Pesaro a centro pagina, identificati i vandali. Questa è la fotonotizia di oggi. Parliamo ancora della notte magica dei festeggiamenti. Sono tre giovani accusati di danni durante la notte azzurra. Mentre il titolo è Berloni, braccio di ferro decisivo. Parliamo dell'azienda Berloni. Se si risolve la lite tra i soci taiwanesi, l'azienda di mobili potrebbe ripartire, ma la partita è tutta in oriente. Poi assembramenti e contagi. Dopo la vittoria dell'Italia, a breve pagheremo il conto, dice il virologo iesino Massimo Clementi. E quindi da notti magiche potremmo parlare di notti tragiche, ma di questo vedremo tra po', tra qualche giorno. Certo, ma di questo ne parleremo tra poco quando leggeremo le pagine interne. Intanto andiamo avanti. Schianto con l'auto, centauro grave, paura e sangue all'incrocio davanti al Carlino. Poi vessava i vicini alla sbarra per stalking condominiale. È una fanese di 63 anni. Ci sono altre notizie, come qui di Taglio Basso. Vedete sotto Morandi, Giovanotti e Vale. Che allegria alla Ranch. A Tavulia hanno girato il video che si intitola appunto l'Allegria di Gianni Morandi. Poi panico e danneggiamenti sotto monte. Mini tromba d'aria. Volano vasi e sdraio. Capitale della cultura, Pesaro C'è. Questo è il titolo del Corriere Adriatico di oggi. La candidatura è ufficializzata. L'obiettivo, le sinergie con Fano Urbino e le altre realtà per il 2024. Si parte con una grande sorpresa. Il museo della bicicletta a Palazzo Gradari. Ecco i grandi cimeli. Mentre a centropagina, sottopassi Fano fuori dal tunnel. Accordo da 4 milioni con RFI, Rete Ferrovie Italiane. Ora questo è un sottopasso che certamente non è una bella cartolina per la città di Fano. Anche perché questo sottopasso non è più così. Stiamo parlando di quello del Lido. Oggi è molto più bello. È stato completamente ristrutturato. Ci sono dentro tutta un'illuminazione nuova. Con dei pannelli dipinti dai ragazzi della scuola. Insomma, anche questo non ci fa una gran pubblicità. Ma comunque bisognerà aggiornare l'archivio parlando di sottopassi. Questo non esiste più. I racquaroli invece. Dura replica alla lettera di Giampieri. Parliamo del porto di Ancona che è nel caos. Ancora altre notizie in breve. In festa dall'alba al tramonto ecco le proloco. E poi Max è attesa per fare una risonanza magnetica. Serve più personale da Urbino. Lo vedremo tra un istante. Tenta di rapinare un'anziana. Lei si difende ma è allarme. La donna fa entrare in casa il malvivente. Poi il CT Mancini torna a Iesi. Una pizza e l'apoteosi. Pagina dedicata, come sempre, al ragguaglio sulla pandemia. Come sta andando nella nostra regione. Allora, contagi, frenata dopo lo sprint. Non rischiamo la zona gialla. È un virgolettato. Sono parole del Presidente della Regione Acquaroli. Acquaroli che dice siamo nella media nazionale. Quindi evitiamo allarmismi che danneggiano il turismo. Tra l'altro, l'incidenza settimanale nelle Marche è scesa da oltre 16 a 14,5 positivi per 100.000 abitanti. Il Governatore che cosa teme? Teme soprattutto, scrive Lorenzo Sconocchini, teme per l'immagine turistica delle Marche. Proprio ora che è al top il richiamo del testimonia Roberto Mancini. Anche se le differenze nelle restrizioni tra zona gialla e zona bianca non sarebbero poi così marcate. Come dire, se dovessimo malauguratamente finire in zona gialla, non è che ci cambia la vita. Nel senso che, a parte il numero ristretto che si andrebbe a restringere dei commensali a tavola, per il resto il coprifuoco non c'è. Insomma, per il resto la vita non cambia assolutamente. Quindi è più una questione psicologica e mentale. Però questa corsa nel mettere le Marche, soprattutto a livello nazionale, i colleghi dei telegiornali, dei giornali nazionali non hanno fatto un gran lavoro nel mettere le Marche tra le quattro regioni a rischio zona gialla, quando ancora il rischio è ben lontano, perché siamo a 14, abbiamo detto, è qualche cosa, dobbiamo arrivare a 50, la strada ancora è lunga. Allora, detto questo, il rischio qual è? Quello di far scappare i turisti, quello di far scappare i villeggianti. Dice Acquaroli, ho ricevuto telefonate allarmate degli operatori turistici che dopo gli articoli sui giornali stanno riscontrando molteplici disdette con conseguenti riscossioni di capare. Cioè gente che aveva già prenotato, magari sull'onda emotiva, sulla scia, la curiosità dello spot visto su tutte le televisioni durante gli europei, hanno chiamato gli alberghi, hanno prenotato un albergo nelle Marche, poi con la notizia di questo possibile inserimento della regione nella fascia gialla, hanno chiamato l'albergo e hanno disdetto, richiedendo indietro i soldi della Capar. Ecco, tutto questo è successo, sta succedendo e certamente non è un bel aiuto, anche perché, ripeto, stiamo parlando del nulla. Non c'è nulla, le Marche non sono tanto diverse dalle altre regioni. E quindi scrive preoccupato il governatore Acquaroli, qui ci sono danni economici ingenti a causa di una diffusione non veritiera di dati inerenti alla pandemia. In effetti, negli ultimi giorni, la situazione nelle Marche è in miglioramento addirittura. Dopo una prima settimana di luglio davvero preoccupante, ma lì ci siamo preoccupati tutti e lo sappiamo perché, noi marchigiani, perché c'era quel focolaio a San Benedetto del Tronto, dove in quella benedetta festa in spiaggia, in quello chalet, c'era una persona con il virus che ha contagiato altre 40-50 persone, tutte in una volta. Ora, però, attenzione. Qui c'è un problema. Bisogna vedere adesso di questa variante delta, che si dice essere più contagiosa rispetto alle sorelle gemelle e quant'altro, sorelle più che gemelle, ma è ancora tutta da decifrare. Specie se pensiamo a tutti i bagni di folla che ci sono stati nella notte dei festeggiamenti per la vittoria della nazionale ed è lì che tutti adesso, incrociando le dita, attendiamo di capire che cosa sta succedendo e cosa succederà soprattutto. Perché? Specie se combinato con i bagni di folla che hanno accompagnato le imprese nazionali, eccetera, eccetera, dove tutti si abbracciavano, urlavano senza mascherine come se l'epidemia fosse un ricordo. Insomma, per ora la curva dei contagi, rispetto a giugno, comunque in rialzo, ma resta disaccoppiata da quelle dei ricoveri per Covid e per decessi. Come dire, sì, è vero, ci sono più casi di contagi, spesso sono giovani, spesso sono asintomatici, ma nessuno di questi finisce in ospedale. A rovinare o fare l'uccello del malaugurio, questa mattina ci pensa il virologo di Iesi, Massimo Clementi, che è direttore del laboratorio di microbiologia e virologia all'ospedale San Raffaele di Milano, il quale dice, come vedete nel giornale, troppa festa, tra breve saliranno i positivi. Ora, lui dice, non sono un indovino, nessuno lo è, ma c'è da aspettarsi un incremento dei casi. Ma anche qui bisogna vedere quanto incremento. Certo che, se andiamo a vedere quello che è successo in spiaggia a San Benedetto e quello che è successo in tutta Italia, c'è da tremare, perché se tanto mi da tanto, vuol dire che tra 5-6 giorni mezza Italia, se non tutta Italia, sarà con il Covid o comunque con dei sintomi o comunque con qualche... perché, voglio dire, quasi tutti hanno festeggiato, non tutti, ma molti hanno festeggiato, tantissimi giovani hanno festeggiato senza mascherine, come se appunto il Covid fosse un ricordo. Quindi bisogna vedere davvero, perché se fra 6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, 10 giorni non succederà nulla, come è già successo a Milano, con i festeggiamenti per la vittoria dell'Inter. Tutti si aspettavano un'ecatombe, in realtà non è successo nulla. Allora, adesso stiamo buoni, adesso stiamo zitti, vediamo che cosa succede tra una settimana. Se ci sarà qualche caso in più, boh, se invece ci saranno un'ecatombe, allora il discorso è diverso. Ma se ci sarà soltanto qualche caso in più, vuol dire che qui c'è qualcuno che sta raccontando bugie, per non dire peggio. Ma la cosa preoccupante che dice Clemente questa mattina è questa, e ve la leggo. Allora, anche lui chiaramente da scienziato, da medico qual è, da virologo, parla in nome della scienza, e quindi si fida ciecamente di quello che dice, e noi ovviamente siamo chiamati ad ascoltare. Lui dice, Clemente, siamo ancora indietro sui vaccini, e io credo che sia opportuno introdurre il passaporto vaccinale come annunciato dalla Francia. E cioè, attenzione, fare in modo che per entrare, attenzione bene, nei pub, nei ristoranti, nei centri sportivi, nei treni, al cinema, nei luoghi di svago, o anche nei negozi, deve avere quel documento che certifica la tua immunizzazione. Capite? E poi dice, non un obbligo, e qui c'è tutto da ridere, non un obbligo, ma un incentivo che potrebbe avere un ruolo molto importante. Ora, caro dottor Massimo Clementi, io sono un ignorante di prima categoria, ma quando lei mi dice che non è un obbligo, non è un incentivo, io non ti dico di obbligarti, ma semplicemente ti invito a fare il vaccino, perché altrimenti tu non puoi entrare nei negozi, quindi cosa faccio? Non vado a fare la spesa, muoio di fame, cosa devo fare? Ecco, allora, capite che quando ti dicono non è un obbligo, non è un obbligo, è un invito sul rettizio per poter incentivarti, convincerti, convincerti, non con le buone, convincerti, ma fare il vaccino. Beh, comunque. Poi c'è tutto il discorso che va avanti, eccetera, eccetera. Sempre qui sulla pagina del resto del Carlino, Acquaroli minimizza, ma i campanelli ci sono già. Quali sono i campanelli? Sono i campanelli, chiaramente, d'allarme e il resto del Carlino pare che ci goda su queste cose. Comunque, fa un'analisi che è condivisibile, nel senso sono numeri. E allora, non si possono fare sono i tranquilli qui nella provincia di Pesurbino. Perché? Perché basti pensare che i casi attualmente positivi in provincia, il dato comprende anche chi si è infettato prima, sono 80. Quindi noi abbiamo in provincia di Pesurbino 80 persone positive al Covid. A fine giugno erano 50. Di questi, 26 sono del distretto di Pesaro. Uno su tre. Mentre a fine giugno la percentuale era del 13. Questo vuol dire che il virus circola, anche se non ce ne accorgiamo, perché gran parte degli infetti sono giovani asintomatici che, appunto, probabilmente non vedranno mai un letto d'ospedale. Poi c'è un'altra cosa che bisogna che qualcuno si metta d'accordo. torno un attimo indietro, perché leggendo, poi non abbiamo il tempo, sono già le 7.17, ma dice da che età i ragazzi si dovrebbero vaccinare? Dai 12 in su per evitare il più possibile alle varianti di diffondersi. Ora, qualche suo collega, allora mettetevi d'accordo, dice che fare il vaccino a tutti, si spinge proprio il virus a farlo diventare matto per cercare di sopravvivere e quindi di cercare varianti a più non posso. Mentre se questi si infettano, i giovani che non finiscono all'ospedale, soprattutto, si infettano, eccetera, eccetera, arriveremo all'immunità di Greggio, il virus sta tranquillo e evita di modificarsi. Quindi mettetevi d'accordo e poi fateci sapere. Ecco, andiamo avanti. Sulla pagina invece, andiamo, basta, basta, andiamo sull'altra pagina, andiamo qua da Mancini, dal Mancio, andiamo a Iesi, qui siamo sulla pagina 4 del resto del Carlino, guardate le fotografie scattate ieri, ieri a Iesi lo hanno aspettato per ore, 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 come se ci fosse un'apparizione Mariana, a proposito, Mancini è un meggioriano, come me, quindi è uno che sicuramente ha avuto un aiuto anche dal cielo. Mancini a Iesi, folla di tifosi in festa per il Re, la braccia della città al Cittiazzurro a 48 ore dalla splendida vittoria a Wembley, selfie autografi con tutti nonostante la stanchezza. E davvero, ecco, questo fa la differenza, una persona che veramente avrebbe sicuramente voluto stare con il papà Aldo, lo vedete qua sotto, il papà Aldo, magari la mamma, insomma, con gli amici più intimi, invece era atteso da una marea di gente, perché poi appena arrivato in pizzeria tutti a scrivere su Whatsapp guardate che qui venite da, non mi ricordo come si chiama la pizzeria, ma insomma, poi ovviamente tutta Iesi si è riversata su, e lui non si è tirato indietro e questo lo fa diventare ancora più, oltre che umile, è anche più simpatico. Un grande evento per festeggiare Roberto invece lo sta pensando la Regione che mantiene contatti ovviamente con Mancini per organizzare una premiazione in piazza oppure una partita, tutto dipende dagli impegni del mister, ma soprattutto tutto dipende, aggiungerei io, da quello che succederà nei prossimi giorni e quello che dicevamo poco fa. La nazionale sarà alle prese con le qualificazioni mondiali e la Nation League e poi invece sempre sulla scia di quello che è successo la notte cosiddetta la notte magica, la notte azzurra, dobbiamo registrare anche i soliti vandali che vanno lì tanto per far confusione, per fare danni. Un video in chioda tre ragazzi a Pesero, la polizia locale grazie a foto e filmati postati sui social li ha individuati, ora sa chi sono questi giovani che hanno diventato insegne, spaccato vasi e cestini, in piena notte in Viale Trieste un gruppuscolo di teppisti si è avventato senza freni sugli arredi urbani. Mentre cambiando pagina e cambiando anche argomento sottopassi, luce in fondo al tunnel saranno nuovi nel 2024, RFI paga tre milioni e mezzo e sono i sottopassi di via Cairoli, Viale Naziaro Sauro ok alla convenzione con il comune che metterà solo però 500 mila euro. Il carriero di Fano invece apre con la scuola di Carrara Cucurano, la nuova scuola, la rabbia delle famiglie, nessuna certezza sulla disponibilità per settembre del nuovo edificio, dirigente costretta a confermare la vecchia organizzazione delle classi. Giovani fanesi, come state? questa è la domanda che pone la Caritas attraverso un questionario online composto da 41 domande e allora per cercare di capire un po', misurare un po' la temperatura di questi giovani la Caritas di Ocesana ha pensato di realizzare questo questionario al quale si può partecipare attraverso appunto la rete. Andiamo sempre sulla pagina di Fano, Rocca Malatestiana di Otallevi svela i segreti il presidente regionale dell'Istituto dei Castelli dice le mura erano doppie. Andiamo invece adesso sull'altra pagina di Fano la Sant'Orso pronta per l'estate campagna di asfaltature da un milione di euro in corso per completare finalmente la pista ciclabile numero 6 l'assessore Tonelli dice con i primi interventi sistemate anche i problemi idraulici all'ingresso della scuola Medianuti poi da Fossombrone ragazzi al lavoro Bonci Ringrazia il progetto finanziato dalla regione con il CSV coinvolge 12 giovani il CSV dovrebbe essere il centro di servizio volontariato poi ordina assaggia e poi vota 4 pizze in gara 2 giurie a terre roveresche c'è questo concorso poi a Fossombrone invece c'è un'altra notizia che sta facendo parlare e che è la probabile candidatura a sindaco di Berloni l'ex patron di Don Dapp ci sono queste grandi manovre a Fossombrone in vista delle elezioni comunali di ottobre la novità di questi giorni è la candidatura trasversale almeno così si è definito Massimo Berloni l'ex patron della Don Dapp che insomma parla di questa possibile candidatura l'altra sera ha esposto il suo progetto in una riunione con alcuni rappresentanti politici tra cui c'era anche Sanzio Balducci esplorente di Forza Italia il quale dice sì in linea di massima su Berloni possiamo starci come nome secondo me Berloni può dare una scossa a Fossombrone del resto è un imprenditore che ha dimostrato già capacità nel suo campo e quindi è concepibile che sappia fare bene anche come amministratore mentre per quanto riguarda invece Amo Fossombrone questa lista a livello locale pare che non siano d'accordo su questa candidatura però ancora ovviamente tutto in grande movimento quindi tutto è possibile poi Balducci svela anche la sorpresa dicono che Berloni sia pronto a fare la sua proposta anche al centro sinistra come vedete trasversale davvero a Sedigaglia prostituta arrestata in un albergo la 39enne finisce in carcere costringeva alcune donne italiane ma anche straniere a vendere il proprio corpo in appartamenti e gli agenti la raggiungono in albergo e la portano in carcere così è finita questa donna di 39 anni dell'Est Europa che è stata poi trasferita nel carcere di Villa Fastigia Pesaro dove c'è la sezione femminile poi stacca la luce e il gas all'ex compagna all'ex moglie marito accusato di maltrattamenti ieri il racconto della donna riferiti anni di vessazione e di violenze anche sessuali lui nega ogni addebito l'imputato è un 64enne imprenditore pesarese che versava 160 euro al mese alla famiglia poi un incrocio sempre a Pesaro un incidente scusate all'incrocio tra via Manzoni e via Giusti schianto trascutere auto motociclista catapultato a terra tenta di rapinare un'anziana sempre dalla cronaca di Pesaro questa volta dal Corriere lei si difende ma è allarme la donna fa entrare in casa il malvivente ma la sua insistenza la insospettisce a Urbino di sanità in primo piano la sanità risonanza una maxi attesa pieno il 2021 e il 2022 è chiuso Londei e Cangini in pressing sull'assessore alla sanità del comune Elisabetta Foschi che replica e dice abbiamo segnalato già il problema cultura sportiva targhe etiche alla pala Carneroli sono del Panathlon Club in collaborazione con Ateneo e il comune la Senigallia shock per la bomba carta sul lungomare basta danni ai locali punire i vandali l'ira di confartigianato dopo il lancio di petardi che ha spaccato la vetrina di un ristorante ma davvero a leggere ogni giorno queste notizie che arrivano da Senigallia ma in particolare dal lungomare che è stato evidentemente preso di mira non si sa bene da chi e non si sa per quale motivo sembra una cosa surreale questa cosa queste continue notizie che arrivano dal lungomare dove ogni giorno ogni notte si consumano atti di vandalismo impuniti tra l'altro perché ancora nessuno è riuscito a prenderli ancora dal giornale in festa dall'alba al tramonto la ripartenza delle proloco un programma con il doppio degli eventi realizzati nel 2019 segno dunque di crescita e partecipazione il presidente Bartocetti dice un impegno enorme che fa onore allo spirito dei tanti nostri volontari poi se avete intenzione e le vacanze ancora non le avete fatte e magari non volete andare troppo lontani il giornale Il Corriere vi suggerisce questa mattina le vacanze in monastero all'eremo oppure all'interno di un convento tra silenzio e meraviglie in forte crescita il numero dei turisti che sceglie questa soluzione e non solo per fede e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia del telegiornale arrivederci grazie